Ciao amici di ZenaZone, benvenuti a Camogli, uno dei borghi più suggestivi della provincia di Genova. Oggi andremo a scoprire l'origine del nome. È curiosa l'etimologia del nome. Tante sono le teorie, ma due le più suggestive. Camogli come case delle mogli, che attendevano a lungo il ritorno dei pescatori. Invece l'altra è Camogli come case a mucchi, muggi in Ligure, per proteggersi dagli attacchi dei saraceni. Grazie a tutti. Ma Camoglio era per gli Etruschi il dio Marte della guerra e Camoglio per i Galli e i Celti rappresentava invece una divinità solare. A metà del 1800 Camoglio era chiamata città dei Mille Veglieri Bianchi e in quel periodo il Borgo era una delle più grandi potenze navali mondiali. Pensate che aveva il doppio delle navi di Hamburgo ed aveva anche più navi di Genova. La navigazione a vapore portò alla decadenza le flotte di Camogli ma dal 1900 iniziò a svilupparsi un'altra risorsa economica, il turismo. Vuoi sponsorizzare una rubrica da trattare su Zana Zon? Contatta la redazione. Grazie. 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 Grazie.